ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'integratore alimentare zbit z farmaceutici spa ultimo aggiornamento 7 aprile 2022 a cosa serve confezioni informazioni commerciali indicazioni modalità d'uso avvertenze allergeni ingredienti apporto nutrienti immagine prodotto a cosa serve z vita un integratore appartenente alla categoria degli integratori di vitamine e minerali è commercializzato in italia dall'azienda z farmaceutici spa informazioni commerciali titolare z farmaceutici spa concessionario z farmaceutici spa categoria di appartenenza integratori di vitamine e minerali forma farmaceutica compressa confezioni z vit sali minerali e vitamine 42 compresse da 1,2 g indicazioni ideale in caso di sensazione di stanchezza ed affaticamento convalescenza dopo interventi chirurgici e terapia antibiotica aumentata richiesta organica anziani gravidanza allattamento indicato per chi non mangia frutta e verdura segue diete restrittive per perdita di peso per ragioni di salute modalità d'uso uno compressa al giorno avvertenze non eccedere le dosi raccomandate per l'assunzione giornaliera tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata equilibrata di un sano stile di vita la data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezione integra i risultati non sono garantiti e gli esiti possono variare allergeni senza glutine e lattosio ingredienti calcio fosforo vitamina c ferro vitamina pp vitamina e zinco vitamina vitamina b5 rame manganese vitamina d3 vitamina b6 vitamina b2 vitamina b1 cromo acido folico iodio selenio biotina vitamina k vitamina b12 luteina apporto nutrienti ingredienti per 100 g per 1 cpr dose giornaliera per 100 vnr calcio 25 g 300 mg 38 per cento fosforo 7,83 g 94 mg vitamina c 3 e 12 g 37,5 mg 30 per cento ferro 0 e 42 g 5,1 mg 36 per cento vitamina pp 1 e 33 g 16 mg 100 per cento vitamina e 1 g 12 mg 100 per cento zinco 0,83 g 10 mg 100 per cento vitamina 66,67 mg 0,8 mg 100 per cento vitamina b5 0,5 g 6 mg 100 per cento rame 83,33 mg 1 mg 100 per cento manganese 0 e 17 g 2 mg 100 per cento vitamina d3 0 e 42 g 5 mg 100 per cento vitamina b6 0 e 12 g 1,4 mg 100 per cento vitamina b2 0 e 12 g 1,4 mg 100 per cento vitamina b1 91,67 g 1,1 mg 100 per cento cromo 3 e 33 mg 0 e 04 mg 100 per cento vitamina per cento vitamina k 2,5 mg 30 mcg 40 per cento vitamina b12 0 e 21 mg 2,5 mcg 100 per cento luteina 8 e 33 mg 0,1 mg barra per cento vnr valori nutritivi di riferimento fonte codi fa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codi fa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farma max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato